Sia lodato Gesù Cristo, oggi voglio dirvi brevissimamente una cosa. L'Eucaristia è lo stesso sacrificio della croce. Quando voi andate in Chiesa, quando noi andiamo alla Santa Messa, saliamo sulla croce, cari fratelli, per unirci allo stesso sacrificio della croce, dal valore infinito. Però, vedetevi conto, cari fratelli, saliamo sul Calvario. Andare alla Messa è salire sul Calvario per offrire con Cristo lo stesso sacrificio della croce. Lo stesso sacrificio della croce. Dio ci aiuti a salire sempre meglio sul Calvario e offrirci sempre meglio con Gesù nel suo stesso sacrificio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.